AEMONS RECORD AEMONS RECORD e Sam presentano Corpo a Corpo, un podcast di Antonio Moresco. AEMONS RECORD e Sam presentano Corpo a Corpo, un podcast di Antonio Moresco. Adesso parlerò di Kafka. Parlare di Kafka è molto difficile perché è uno scrittore profondissimo e leggerissimo nello stesso tempo, che sfugge da tutte le parti. E infatti tutti i libri che mi è capitato di leggere su di lui, anche se in molti casi bellissimi, in qualche modo non riescono ad acchiapparlo perché è una figura di una... anche se è sincero, fino allo spasimo nei suoi diari ci ha detto tutto quello che potevamo essere curiosi di sapere su di lui. Ciò nonostante, la sua leggerezza unita alla profondità ne fa di lui uno scrittore difficile da afferrare. È un po' come Mozart che ha questa compresenza di leggerezza estrema e di malinconia profonda, per cui ti scappa sempre qualcosa se ti fermi su uno dei suoi aspetti piuttosto che sull'altro. Bisogna leggerlo, solo leggendolo e rileggendolo arriva la voce di questo inimitabile e inconfondibile scrittore. Come solito, io mi avvicinerò a lui attraverso le porticine che ho scelto di tentare per avvicinarmi agli scrittori. In questo caso, la porticina è iniziale, è un libro che non ha neanche scritto lui, si chiama Colloqui con Kafka e l'autore si chiama Gustav Janok, almeno spero che si pronunci così. E' un libro singolarissimo perché il suo autore è un ventenne che conosce per caso Kafka perché suo padre lavorava negli stessi uffici di quella compagnia di assicurazioni presso la quale viveva e lavorava Kafka. Un giorno si presenta questo ragazzo e Kafka fa amicizia con lui e vanno spesso a spasso assieme. Ma la cosa incredibile è che questo ragazzo, dopo ogni passeggiata, si fionda in casa e si mette a scrivere diligentemente tutto quello di cui hanno parlato e quindi costituisce una testimonianza incredibile e irripetibile su questo scrittore. Questo testo è molto veritiero, anche Max Broth, l'amico di Tutta una vita di Kafka, ha testimoniato leggendolo, sì, mi torna, queste cose le può avere detto Kafka. Però il preso di questo libro è che, chiacchierando, Kafka ci parla di cose di cui non parla mai nei suoi romanzi, nei suoi diari, eccetera, e quindi conosciamo il suo punto di vista su un numero enorme di cose. È un incontro, uno sguardo di prima mano e diretto, e quindi uno scandaglio prezioso. Adesso vi leggo alcuni di queste chiacchierate tra queste due persone. Vi leggo il primo brano. I due sono a spasso e continuano a chiacchierare di cose leggere, ma anche dei massimi sistemi. In questo caso parlano dei massimi sistemi. Qui Kafka dice È possibile raggiungere il bene mediante il male? La forza che si oppone al destino è in realtà una debolezza. La dedizione e l'accettazione sono molto più forti. Ma ciò non può capire il Marchese de Saad. De Saad, esclamai stupito, qui è il ragazzo che parla. Sì, il Marchese de Saad, del quale lei mi ha prestato la biografia, è il vero e proprio patrono della nostra epoca. Non mi pare. Ma sì, risponde Kafka. De Saad trova la gioia di vivere soltanto nella sofferenza altrui, allo stesso modo che il lusso dei ricchi è pagato con la miseria dei poveri. Per mascherare la mia sconfitta affondai la mano nella cartella e ne trassi alcune riproduzioni dei quadri di Van Gogh. E questo mi piace molto perché vediamo come ritornano, come abbiamo visto, che tornava Dostoevsky nei diari di Kafka, così adesso salta fuori Van Gogh di cui abbiamo parlato. Kafka ne fu molto lieto. Questo giardinetto davanti al caffè, qui a Kafka che parla, con la notte viola nello sfondo, è meraviglioso. Anche gli altri quadri sono belli, ma questo giardinetto mi incanta. Conosci i suoi disegni? No, non li conosco. Peccato, sono accolti nel libro delle lettere dal manicomio, probabilmente sarà una edizione di lettere uscita a Praga a quel tempo. Veda di procurarsi questo libro, a me piacerebbe molto saper disegnare, mi ci provo sempre, ma non riesco a fare niente di buono. È una scrittura figurata personalissima della quale io stesso dopo un certo tempo non trovo più il significato. Vediamo com'è sempre spiazzante nelle sue osservazioni, anche quelle più piccole. Adesso vi leggo un'osservazione che mi ha colpito molto. Dio è concepibile soltanto personalmente, ognuno ha la sua vita e il suo Dio, il suo difensore e il giudice. Sacerdoti e riti sono le stampelle dell'esperienza spirituale che viene meno. Sembra un'osservazione profondissima. E poi questa invece mi ha molto colpito perché fa vedere la libertà di giudizio di Kafka, il fatto che, a differenza di tanti scrittori di oggi, che si arroccano su un'idea elitaria di letteratura, credendo per ciò stesso di nazzarsi, eccetera, e vediamo com'è libero nel giudizio. Vedendo tra i miei libri un romanzo giallo, Kafka mi avvertì. Non creda di doversi vergognare di tale lettura. Anche Delitto e castigo di Dostoevsky è un romanzo giallo e L'amletto di Shakespeare è un dramma investigativo. Al centro dell'azione troviamo un mistero che lentamente si svela. Ora c'è mistero più grande della verità. La poesia è sempre e soltanto una spedizione in cerca della verità. Quindi vediamo come passa con leggerezza da un giudizio libero e spregiudicato su una letteratura che viene considerata minore a un giudizio molto profondo su ciò che deve fare uno scrittore. Adesso vi leggo questo pezzettino. Qui parla di verità ancora. Si direbbe che lei mi abbia colto a pronunciare una frase vuota, ma in realtà non è così. La verità è ciò che ad ognuno corre per vivere, ma non si può ricevere né acquistare da nessuno. Ogni uomo deve produrla continuamente dal proprio intimo, altrimenti perisce. È impossibile vivere senza verità. Può darsi che la verità sia la vita stessa. Tutte affermazioni dette con leggerezza, ma che sono di una profondità assoluta. A un certo punto Kafka vede, perché gliela mostra il ragazzo, una traduzione di un libro di saggi di Oscar Wilde e fa questa incredibile osservazione. Kafka sfogliò il libro e disse, qui tutto scintilla e invita, come soltanto un veleno può scintillare e invitare. Non le piace questo libro? Non ho detto questo, anzi può piacere troppo facilmente. Anche questo è uno dei suoi grandi pericoli. È un libro pericoloso, perché gioca con la verità. Giocare con la verità vuol dire giocare con la vita. Sicché lei crede che non ci sia vera vita senza verità? Kafka sentì in silenzio e dopo una breve pausa soggiunge. Spesso la menzogna non è che espressione della paura che abbiamo di essere schiacciati dalla verità. Andiamo avanti con queste piccole pillole, diciamo così, però molto molto intense e colte di prima mano da questo ragazzo. Che cos'è il peccato secondo lei? Chiede il ragazzo Kafka. «Peccato è tirarsi indietro dalla propria missione». Fra intendere, essere impazienti, lasciar correre. Ecco il peccato. Il poeta ha il compito di trasportare nella vita infinita ciò che è mortale e isolato, di stabilire il ponte fra il caso e la norma. Egli ha un compito profetico». E questo brano, anche questo, per me è molto importante perché svela anche un carattere, una possibilità della letteratura, quella di essere prefigurazione, profezia, cosa che si è andata stemperando perché oggi in genere si assegna alla letteratura un compito molto minore, e ancillare, invece Kafka, dice la letteratura, può essere, forse addirittura deve essere profezia. Ancora un paio di piccoli brani presi da questo libro. «Mentre ci scambiavamo un sorriso, esclamai, vede, tutto si aggiusterà». «È già fatto», disse Kafka lentamente. «Ho accettato ogni cosa e in questo modo il dolore diventa una magia. È la morte. La morte è soltanto una parte della dolce vita». Sono tutte cose che mi hanno conquistato e hanno fatto sentire a me Kafka come un fratello, un grande fratello. Ultimo pezzettino che vi voglio leggere da questo libro. Qui dice Kafka. «Dietro a ogni arte c'è la passione. Perciò lei soffre e combatte per la sua musica». Si dilettava di musica. «Perciò non si adatta al divieto paterno, poiché ama la musica e tutto ciò che la riguarda, più dei suoi genitori. Nell'arte avviene sempre così. Bisogna buttare via la vita per conquistarla». Queste sono massime cose che ci ricordano addirittura alcune espressioni evangeliche. «Quando il conflitto fra i miei genitori arrivò alla causa di separazione, comunicai a Kafka che avrei lasciato la casa. È doloroso», disse. «Ma è quanto di meglio si possa fare in questo caso. Certe cose si possono raggiungere soltanto buttandosi risolutamente nel contrario. Si deve andare a terra in terra straniera per trovare la patria che si è lasciata». Ultima letturina di questo prezioso libricino. «Dopo aver ascoltato le mie lagnanze, Kafka mi ammonì. Stia tranquillo e abbia pazienza. Lasci che il male e i dispiaceri le vengono addosso. Non li eviti, anzi, li osservi attentamente. Sostituisca la comprensione attiva alla irritazione reattiva e vedrà che saprà superare le cose. Alla grandezza si giunge soltanto attraverso la propria piccolezza». Anche questa è un'intuizione incredibile che mi avvicina a Kafka alle figure di certe mistiche, come Santa Teresa dell'Isio, che fa proprio della piccolezza la strada per arrivare alla grandezza. Ecco, quello che mi colpisce, anche leggendo queste piccole istantanee, è che ogni cosa che Kafka tocca diventa spiazzante. Ci fa vedere questa cosa stessa come non l'abbiamo mai vista. Ha un tocco che apre le cose a verità più profonde. Questo l'ho trovato anche leggendo la biografia di Max Broth che scrive sull'amico dopo che lui è morto. Ecco, mi viene in mente una scena che mi ha colpito moltissimo, che fa vedere la presenza costante di Kafka a se stesso, alla propria ispirazione, alla propria missione, oserei dire. A un certo punto Kafka va a trovare l'amico nella sua casa, a Praga, e per andare nel suo studio deve attraversare la camera da letto del padre di Max Broth. E il padre di Max Broth era letto per combinazione, si vede che faceva la pennichella, e lui, passando, lo sveglia. E allora Kafka gli dice, «Non si preoccupi, continui a dormire, faccia conto che io sia un sogno». Ecco, queste cose mi sembrano meravigliose, indicano proprio una presenza costante alla propria anima e al proprio genio. Adesso vi leggo alcuni pezzettini delle lettere dell'epistolario tra lui e Max Broth. Max Broth è l'amico di una vita, è quello a cui lui affida il terribile e disperato compito di distruggere quasi tutti i suoi libri prima di morire. Alla fine io vi leggerò queste due lettere di Kafka, l'amico Broth, dove gli chiede di distruggere tutti. Qui, con questo epistolario, secondo me è meraviglioso, Kafka ha scritto degli epistolari meravigliosi, quello a Milena, quello a Felice Bauer, quello la sorella a Otla, ma secondo me quello di Max Broth è il più completo e il più bello e dove si apre completamente. Qui parla della propria necessità della guarigione, insomma, o meglio, della possibilità. E Kafka risponde in questa maniera terribile. I motivi che adduci riguardo la necessità di guarire sono belli ma utopici. Quello che tu mi imponi come compito avrebbe potuto compierlo forse un angelo sul letto nuziale dei miei genitori, o ancora meglio, sul letto nuziale del mio popolo, ammesso che ne abbia uno. Kafka chiaramente parla del popolo ebraico. Adesso vi leggo questa piccola osservazione. Io sento la presenza di Dio solo quando mi abbandono al mondo e anche allora lo sento per molti versi come un caso, come una corrente d'aria che scivola via veloce. Il mio scetticismo e la mia inquietudine derivano da questo, dal non sapere se sono capace di fare una conversione in una regione quasi priva d'aria, dal non sapere nemmeno se questa è la mia vocazione. Per questo la mia poesia trascina con sé ogni tipo di fanghiglia naturalistica e quando mi riesce un'opera più pura, come con Lester, anche questo forse è solo il veloce passare oltre di Dio di cui non sopporterei il volto. Queste sono pagine dove si vede come questo scrittore vive il suo essere poeta, il suo essere pensatore, non scende mai a patti, non fa mai asconti, non accetta mai soluzioni di compromesso e però il suo passo è sempre leggero. Vi leggo questo piccolo pezzo. Questo è molto curioso, qui invece è Max Broth che scrive, le altre era Kafka che scriveva Broth e qui è una cosa che mi ha colpito, perché non la sapevo, non la immaginavo. Werfel, che era lo scrittore più famoso del tempo, non era Kafka, Kafka aveva pubblicato solo due libri di racconti in vita che avevano venduto 200 coppie e quindi era uno scrittore poco conosciuto, però lo conosceva qualche scrittore qua e là, anche fuori da Praga, che era uno scrittore nevralgico importante. Werfel scrive entusiasta del tuo racconto sulla scimmia e ritiene che tu sia il più grande scrittore tedesco. Anche questo mi ha sbalordito che questo scrittore oscuro, come era Kafka, venisse considerato dallo scrittore più celebre dell'epoca come un più grande scrittore tedesco. Non lo sapevo e mi ha colpito molto. Ecco, qui sono tutte parti che vi leggerò dove esprimono anche la profonda angoscia di Kafka. Io non trovo, contemporaneamente alla mia energia vitale, nessuna possibilità, se non quella di mettermi in salvo, in uno stato però che rende incomprensibile a chi osserva dall'esterno cosa si debba ancora salvare. Eppure non si corre sempre per salvarsi, anche la cenere che il vento soffia via dal cumulo di braccia non vola via per salvarsi. Anche questa è una cosa che mi sbalordisce in Kafka, il fatto che trasforma ogni pensiero in un'immagine indimenticabile. Verrebbe da dire che pensa per parabole e quindi ha questo passo antico che viene quasi dall'Antico Testamento, però calato dentro lo strazio, l'angoscia, l'acerazione dell'epoca moderna. E ora ho qui di nuovo la sua lettra, nella quale non si pretende nulla, se non un unico cello al quale non dovrebbe seguire nessuna risposta. Alle spalle ho un pomeriggio di martirio, delle tempie, di fronte a me una nottata, ma di più non sarà. Lei è irraggiungibile per me, devo rassegnarmi a ciò e le mie forze sono in uno stato tale che lo fanno esultando. Così al dolore si aggiunge anche la vergogna. È un po' come se Napoleone avesse detto al demone che lo chiamava in Russia, ora non posso, devo bere ancora il latte della sera. E poi quando il demone chiese ancora, ci vorrà ancora molto? È come se avesse risposto, sì, devo masticarlo con grande cura. Ecco, in queste pagine si vede anche il senso di impotenza, diremmo così, anche di Kafka nei confronti della vita. Qui sta parlando di uno dei suoi sfortunati incontri femminili, probabilmente con Felice, con la quale rompe il fidanzamento, eccetera. Ma anche con Milena c'è una storia bellissima ma drammatica che è consegnata nelle sue lettere a Milena che secondo me sono il più bel epistolario d'amore del Novecento. Adesso facciamo un altro piccolo passo avanti e andiamo qua. Qui siamo a quella terribile richiesta che fa Max Broth di distruggere tutta la sua opera. Carissimo Max, la mia ultima preghiera, tutto quello che si trova nel mio lascito, dunque nelle librerie, nell'armadio della biancheria, nella scrivania, a casa, in ufficio, o dovunque qualcosa dovesse essere stato portato via che ti capiti a tiro, diari, manoscritti, lettere di altri, i miei disegni, eccetera, brucialo interamente e senza leggerlo, come anche tutti gli scritti e i disegni che tu o altri a cui tu dovessi chiederlo a nome mio possedere. Chi non voglia consegnarli di delle lettere dovrebbe almeno impegnarsi a bruciarle di persona. Questa cosa che ha sempre sbalordito i posteri e questo suo bisogno di distruggere tutta la sua opera. Questa è una frase terribile che scrive sulla scrittura che forse è anche alla base di questo quasi senso di colpa che lo accompagna come scrittore. Lo scrivere è un dolce e meraviglioso compenso ma per cosa? Nel corso della notte mi divenne chiaro con l'evidenza di una lezione dimostrativa per bambini e il compenso per un servizio del diavolo. Questo scendere verso le potenze oscure questo scatenamento di spiriti legati per natura di abbracci ambigui e tutto ciò che ancora può verificarsi laggiù di cui qui sopra non si sa più nulla quando si scrivono storie alla luce del sole. Forse c'è anche un altro scrivere io conosco solo questo nella notte ogni volta che la paura non mi fa dormire conosco solo questo è la dimensione demoniaca in ciò mi pare chiarissima. quindi lui ha questa concezione profonda della parte oscura diciamo così dello scrittore e a un certo punto anche per la sua struttura fortemente morale la vive come una colpa e io avevo parlato di questa vicinanza al male degli scrittori anche Kafka anche se ha fatto una tranquilla vita da impiegato eccetera era una persona terribilmente vicina al male e lo si capisce dai suoi meravigliosi racconti come la metamorfosi o la colonia penale eccetera ecco poi viene fuori questo aspetto diciamo così masochistico anche in Kafka che è quello che pur sentendolo come mio fratello tra i più cari eccetera a volte io mi devo ribellare e separare da lui durante tutta la mia vita sono morto e ora morirò davvero la mia vita era più dolce di quella degli altri la mia morte sarà tanto più spaventosa lo scrittore in me naturalmente morirà subito poiché una tale figura non ha terreno non ha consistenza non è nemmeno di polvere è soltanto vagamente possibile nella più folle vita terrena è solo una costruzione della brama di piaceri questo è lo scrittore io stesso però non posso continuare a vivere poiché non ho vissuto sono rimasto argilla la scintilla non l'ho trasformata in fuoco ma utilizzata solo per l'illuminazione del mio cadavere quindi vedete che terribile idea che ha di se stesso e non è e non è neppure vera non è neppure del tutto vero per chi legge oggi le sue opere assieme al dolore all'ostrazio all'angoscia eccetera viene fuori l'irriducibilità della persona inerme che però fronteggia il male continua per tutta la sua vita a fronteggiare il male a non diminuirlo a non nasconderlo ma continuamente a fronteggiarlo a stargli vicino e questo fa dell'opera di Kafka anche un qualcosa di epico anche se lui non ne aveva coscienza e pensava che fosse solo uno strisciare di un verme nel fango la definizione dello scrittore di uno scrittore del genere è la spiegazione del mio effetto seppur un effetto esiste è il capro espiatorio dell'umanità permette agli uomini di godere senza colpa di un peccato questo sempre questa struttura di cui parlavo prima sono lontano da casa e devo scrivere continuamente a casa anche se ogni casa mia fosse stata da tempo trascinata via dalla corrente nell'eternità tutto questo scrivere non è altro che la bandiera di Robinson sul punto più alto dell'isola poi c'è un'altra mavela salto un'altra lettera più lunga dove chiede a Max Broth di distruggere tutto quello che ha fatto e questa è molto più specifica elenca i libri che distruggere elenca i pochi che lui gli chiede di salvare ecco leggo solo questi sono il verdetto il fochista la metamorfosi nella colonia penale un medico di campagna e il racconto il disunatore tutto il resto compreso i suoi tre grandi romanzi e compreso i meravigliosi diari che sono il diario più bello secondo me del novecento poi ci metto quello di Virginia Woolf e lui chiede che vengano distrutti adesso però siccome vi ho detto fin dall'inizio che io in questi incontri vado anche a un'implicazione personale a un'incarnazione mi interessa rendere l'idea anche di qual è stato il mio incontro con lo scrittore perché l'incontro con gli scrittori che ci segnano la vita sono delle abrasioni noi ci ricordiamo quando l'abbiamo incontrato la prima volta quando l'abbiamo letto tirare via questa componente vuol dire inaridire la componente stessa intima della scrittore e del rapporto che noi possiamo avere con uno scrittore per questa ragione mi fa piacere leggervi due pezzettini che sono stratti dallo sbrego un mio libro a cui vi avevo già accennato dove parlo con Kafka io in questo libro immagino di parlare per telefono con tutta una serie di scrittori scrittrici amate e uno di questi è Kafka e il mio incontro con lui comincia così sì sono qui dolce amico aspettavo la tua telefonata sapevo che a questo punto saresti arrivato io non lo so com'eri come sarebbe stato se ci fossimo incontrati e conosciuti di persona mi sono fatto l'idea che saremmo andati d'accordo ci sono delle persone con cui mi pare che sarei andato d'accordo persone che mi pare davvero essere di modi semplici disarmati come Simone Veil ad esempio anche se certe volte mi sembra davvero eccecata dal suo platonismo mentre da altre che pure mi piacciono enormemente penso che sarebbe stato meglio per me stare alla larga ci saremmo mandati a fanculo dopo cinque minuti come con quel figlio di puttana di Selin per esempio mentre mi sarei trovato bene con Stendhal anche se parlava nel naso era francese e poi con le donne ci saremmo visti ogni tanto da qualche parte avremmo preso una birra insieme parlando del più e del meno io col mio naso da rabbino di smirne della propaganda nazista tu con le tue formidabili orecchie a sventola non crederai mica che avresti avuto la risonanza che hai avuto se non avessi portato in giro quelle formidabili sculture osse ai lati della testa sono sicuro che non ti sono cadute con il resto della poca carne che avevi dopo morto che ci sarà ancora da qualche parte nelle viscere della terra un esemplare unico di scheletro umano con le orecchie mi prendo queste libertà con questi scrittori che amo come si fa tra amici e tra fratelli e poi vorrei fare solo un piccolo tassello da un grande libro suo questa volta siamo al castello il suo ultimo libro sappiamo tutti lui arriva in questo paese dove c'è un castello lui è chiamato lì come agrimensore però poi non riesce mai a entrare dentro questo castello questo cartello ha degli emissari si conosce il nome di alcuni signori però sono irraggiungibili sfuggenti eccetera come come clam signore di questo castello Kafka a un certo punto lo incrocia ma non di persona si va a sedere in un posto dove si era seduto lui e questa è una pagina del castello secondo me meravigliosa lui si trova in questo posto in questa locanda e viene a sapere che c'è passato di lì clam e ha lasciato la slitta la carrozza slitta perché c'era la neve e allora succede questo e quando terminato il lavoro nella stalla il cocchiere attraversò il cortile con un'andatura lenta ed ondolante serrò il grande portone poi tornò indietro camminando sempre molto adagio e contemplando le sue orme sulla neve infine si chiuse nella stalla e spense anche tutte le luci per chi doveva lasciarle così che solo la fenditura luminosa lungo il ballatoio di legno rimase ad attirare un poco lo sguardo vagante sembrò a cappa che tutte le comunicazioni tra lui e il mondo fossero tagliate certo adesso era più libero che mai poteva aspettare lì nel luogo proibito quanto gli pareva e piaceva si era conquistato la libertà come nessun altro avrebbe saputo e nessuno aveva il diritto di toccarlo o di scacciarlo e nemmeno di rivolgergli la parola ma e questa convinzione era davvero altrettanto forte nulla era così assurdo così disperato come quell'indipendenza quella attesa quella invulnerabilità ecco quindi vorrei accomiatarmi a poco a poco da Kafka mentre è seduto nella slitta di di clam e si sente assolutamente inerme ma assolutamente invulnerabile ecco io ho commesso anch'io quest'oggi il peccato di parlare di Kafka dopo aver detto che è uno scrittore di cui non bisognerebbe parlare ma solo leggere ascoltare e assimilare a mia piccola discolpa c'è che ho parlato di lui quasi sempre attraverso la sua voce e quindi non l'ho irrigidito in una interpretazione e questo forse mi scusa un pochettino di questo peccato io non lo so perché con Kafka mi succede questo cosa che non mi succede con nessun altro scrittore ma mi pare che di Kafka sia uno scrittore che non bisogna parlarne e poi non ho parlato in questo incontro perché mi sembrava inopportuno solo nel caso di Kafka della mia lotta con lui questi incontri si chiamano corpo a corpo e ci sono stati dei corpo a corpo anche ruvidi ma ci sono stati anche molti abbracci e molte carezze come questo incontro con Kafka perciò non ho voluto parlare anche di ciò che a un certo punto della mia vita dopo essere stato soggiogato profondamente da Kafka mi ha spinto alla ribellione nei confronti di questo scrittore e al susseguirsi delle maschere liquide e simboliche con cui lui si rivolge al lettore mi è sembrato a un certo punto della mia vita questo scrittore amatissimo e grandissimo che fosse anche uno scrittore che castrava e io non volevo farmi castrare però dopo questo primo impatto dopo questo primo scontro dopo questa prima ribellione continuando a rileggere Kafka ho capito meglio che in realtà non è uno scrittore che castra è anzi uno scrittore che mi insegna il fronteggiamento continuo è una persona inerme magrolina anoressica indifesa eccetera però continua a fronteggiare il male e il buio del mondo con una grandissima missione profetica che sente dentro di sé e quindi anche lui è un fronteggiatore è un combattente anche se sembra invece uno che ha perso in partenza avete ascoltato corpo a corpo un podcast di Antonio Morisco prodotto da Emons Record e Sen di Grazie.